Inizia a Belpasso la settimana di Santa Lucia, patrona della cittadina che vivrà il suo clou venerdì 13 dicembre, giorno della solennità della martire siracusana. Una festa che come ogni anno Belpasso vivrà con gioia e partecipazione. Un calendario ricco di appuntamenti che si snoderanno per tutta la settimana. Mercoledì 11 dicembre e giovedì 12 si terrà la tradizionale spaccata dei carri dei quartieri. Mercoledì alle 21 le spaccate a Sant'Antonio e alla Matrice e giovedì toccherà ai quartieri Purgatorio, San Rocco e Borrello. Venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le processioni sull'argento fercolo richiaranno la patrona fra la sua gente. Sabato 14 dicembre il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina. Quest'anno, per la prima volta, la festa verrà allungata di un giorno e terminerà domenica 15 dicembre, ma non sarà l'unica novità. In merito abbiamo intervistato Monsignor Gianni Lanzafame, parroco della Chiesa Madre. Molte sono state le innovazioni della festa a motivo del 350esimo della distruzione del paese e della ricostruzione duplice prima Fenice-Moncata e poi dopo il terremoto del 1693 l'attuale Belpasso. Il 12 alla processione della ricostruzione offerta alla cera parteciperanno tre candelore. Perché ci sono le candelore? Non è un ripristino, è un ricordo di quello che c'era nella festa. Noi chiuderemo con il pontificale del Monsignor Cristina l'anno giubilare, per cui sono venuti in pellegraggio giorno 1, aprendo le celebrazioni a mezzogiorno. Parteciperanno alla processione del 12 solo, poi chiuderanno le celebrazioni il 20, quando c'è la processione dell'ottava, ritorneranno nelle rispettive proprie. Giorno 15, un giorno in più di festa, domenica, sempre Santa Lucia è stata esposta sull'altare, però quest'anno va a Borrello. E poi soprattutto quello che io noto, il desiderio delle confessioni, il desiderio di confessarsi, il desiderio di accostarsi alla celebrazione della festa con quello che è un vero spirito cristiano. Sante di ieri, donne di oggi, per cui Santa Lucia è una donna, una vergine, una martire, che ha saputo dare pubblica testimonianza della sua fede.